Quattro, due, due, vieni! Sono stato a Maranello, abbiamo fatto due giorni di prove lunghe per capire tutto quello che abbiamo fatto a Heres, con la macchina nuova, per capire tante cose, tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, con tutte le cose diverse sulla macchina, il setup e anche certe cose che abbiamo provato sulla macchina, abbiamo fatto la stessa cosa in simulatore e poi dopo nella seconda giornata ho fatto la mattina a Heres, poi dopo pomeriggio sono andato a Barcellona almeno per capire qualcosa prima di andare in pista e poi dopo tornerò per fare il dopo di Barcellona quindi abbiamo un po' simulato quello che abbiamo fatto a Heres al simulatore quindi sono state due giornate abbastanza lunghe Secondo me è mancato un po' di chilometri quindi non abbiamo girato esattamente come si doveva per fare più di centi giri al giorno è sempre importante come una macchina nuova, però è sempre una macchina nuova quindi questo non è stato molto molto piacevole però secondo me abbiamo capito tante cose importanti per Barcellona adesso, il prossimo Barcellona e anche già pensando alla prima gara, tante cose che dobbiamo seguire, tante direzioni di sviluppo sulla macchina quindi anche se non abbiamo girato come si doveva è stato molto molto importante per capire un po' la direzione per adesso e anche già pensando alla prima gara 4, 2, 3, 2, 1